Buongiorno, buongiorno a tutti, buon venerdì, buon venerdì, finalmente la settimana è finita. È stata una settimana pesantissima, lavoro un sacco di casini da risolvere, ma adesso è finita. Se sentite delle voci fuori campo, sono i miei figli che sui tre piani di casa comunicano, gridando come dei pazzi, perché uno parla, l'altro non sente, l'altro risponde, ok? Bene, ma siamo qui oggi per fare il video di disordine creativo. Sono contenta perché ho tante idee che mi frullano in testa, ho finito la coperta di Pietro, che lascerò in eredità perché ho deciso che, oltre a tutto quello che ci sarà in questa camera hobby, quando io non ci sarò più, ai miei figli voglio fare delle coperte all'uncinetto. Questa l'avevo iniziata tantissimo tempo fa, non c'era una persona particolare a cui era dedicata, nel corso degli anni, perché è forse tre anni che ce l'ho in ballo sta roba, perché poi dopo l'ho piantata lì, poi ci sono venute altre cose, poi c'è stato mio papà che si è ammalato, poi mia mamma, alla fine ho detto no, faccio questa cosa, faccio delle coperte, vorrei fare delle coperte all'uncinetto che i miei figli avranno quando io non ci sarò più, più tardi possibile. E in questo ultimo periodo ci ho proprio dato dentro, ci ho dato dentro tantissimo, tant'è che mi è venuto pure il mal di spalla e il mal di testa, ma sono molto molto soddisfatta. Siccome domenica saliremo tutti da Pietro, andremo a fare una grigliata, e così questa volta non scende lui, ho deciso che era arrivato il momento di portarla a termine. E questa è la coperta finita. Vediamo se riesco a farvi vedere qualcosina in più. Allora, io ve la faccio vedere tutta nella sua bellezza, perché mi piace davvero davvero tanto. È gigantesca, gigantesca, è da letto matrimoniale, non scende ma ricopre tutto il pezzo del letto matrimoniale, tutta la misura dei materassi. Allora, è semplicissima, semplicissima. Una coperta a punto granny, quindi davvero anche per chi è alle prime armi con l'uncinetto, non ci sono difficoltà, l'unica cosa è che è molto molto lunga. E man mano che andrete avanti, vedrete che i punti diventeranno sempre più precisi, sempre più belli. Tra l'altro, il filato che io ho usato è un acrilico meraviglioso, che ho comprato anni fa, e queste sono tutte le tonalità di colore. Allora, io avevo iniziato dalla lunghezza. Non ricordo quanti punti ho messo, ma vi dico solo che finita, a grandi linee, perché non l'ho ancora lavata, la laverò oggi per consegnarla domenica, a grandi linee è finita, è un 170x140, quindi ricopre bene, diciamo, il materasso matrimoniale, oppure se la possono mettere sul divano o dove vogliono loro. E avevo fatto questa tipologia di colori, ve li faccio vedere così. Allora, diciamo, questi che erano dell'azzurro, praticamente per me era l'inverno. Poi c'era l'autunno con questi colori, marroncino, bordeaux, giallo senape, tutti questi che mi piacciono un sacco. La primavera, che per me è verde, cioè proprio la primavera per me si definisce con il colore verde, e poi il rosa e il viola che era l'estate. Che dirvi? L'unica modifica che ho fatto sul modello di Lucy del sito Attic24, è un sito di una ragazza inglese che fa dei lavori meravigliosi, anche se non vi piace lavorare all'uncinetto, ha delle fotografie, delle combinazioni, delle palette di colore stupendi per tutti i lavori che fa. Sono dei lavori sempre molto molto semplici. È un blog in inglese, ma con Google Translate potete tranquillamente tradurlo, traducete anche i vari pattern che sono tutti, tutti, tutti gratuiti, davvero. Cioè lei mette a disposizione la sua bravura, la sua fantasia, la sua creatività al mondo intero. E devo dire che mi piace tantissimo questa cosa, mi piace veramente tantissimo. Mi sto accorgendo che ho dei capelli lunghissimi, li ho appena tagliati, ma qua devo ritornare dal parrucchiere. Ma va bene. L'unica modifica, vi dicevo, che ho fatto al suo modello, è che io ho iniziato, proprio la riga, la prima riga, ho fatto la prima riga di tutte le maglie che riguardano la lunghezza della coperta con un punto alto e poi ho iniziato il punto granny. E la stessa cosa ho fatto alla fine. Poi ho fatto un bordino molto semplice, spero che si veda qualcosa, un bordino molto semplice all'uncinetto con due punti bassi, una catenella e saltavo un punto, due punti bassi, una catenella e saltavo un punto, e questo, ma mi sembra una pazza, e questo per le tre righe del bordino. Nulla, questa è la mia coperta e vi dirò, sono molto soddisfatta e molto orgogliosa di me stessa medesima per averla finita. Spero che piaccia anche a voi. Ok, sbuco da dietro la coperta. E nulla, quindi praticamente, diciamo, il tempo in questo mese lanciata l'ho speso proprio per finire questa coperta. Il modello si chiama Granny Stripe Blanket, sì, coperta a righe granny, nella traduzione, e la potete fare con degli avanzi di lana, la potete fare, ci sono anche nel suo blog le varie tipologie di misure, da coperta baby, coperta piccola, coperta da divano, coperta matrimoniale, coperta singola, e voi potete creare a vostro piacere. Io qui sono andata un po' alla Carlona, come si dice da noi. Ho messo su un toddy maglio, ho guardato se sul letto matrimoniale in lunghezza, in larghezza, era come volevo che venisse, e sono andata avanti fino a finirla. Bene, questo è il primo e quasi unico lavoro finito. perché? Perché sono andata avanti con il mio proposito di ricamare su lana. Secondo lavoro finito, finito completamente, nel video scorso vi avevo fatto vedere la fascia che avevo fatto da regalare a Natale alla fidanzata di Pietro, la fede, del mio pietrino, del contadino, non l'avevo ancora cucita perché avevo intenzione di ricamarla con un filato per lana e volevo così cimentarmi in questo nuovo percorso. Allora, sono contenta di averla finita sì, soddisfatta nì. Ora però ve la faccio vedere. Allora, questa è la fascia ricamata. Vi dirò, mi piace, mi piace, ma, ma, devo essere sincera, io sono una creativa disordinata e lo dice il titolo di questi video, ma, purtroppo, sono molto esigente con me stessa e le cose devono essere precise. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io faccio un errore anche invisibile che so soltanto io che ho fatto, purtroppo non sono capaci di andare avanti. devo disfare. Qui perché non ho disfato? Perché il ricamo su maglia è stata proprio la prima volta che faccio un ricamo su maglia con dei punti tradizionali. Ho sempre lavorato a punto maglia, ho ricamato su maglia sempre a punto maglia. E soprattutto perché era molto difficoltoso. Io stupidamente ho fatto un tubo con i ferri circolari ma sarebbe stato molto meglio lasciare il rettangolo e cucirlo dopo aver ricamato perché è stato molto difficoltoso cercare di non prendere quando ricamavo per esempio la parte dietro perché ho messo una teletta che è adatta per fare i ricami sia ricami a macchina che ricami a mano. Quella teletta che si stira e rimane adesiva e poi quando si bagna si scioglie e sulla teletta mi sembrava che il punto fosse preciso e definito quando invece ho sciolto la teletta non è stato così. È vero che adesso vanno di moda questi ricami così un po' disordinati un po' non precisi ma non è nel mio stile ve lo dico molto chiaramente e poi perché avrei dovuto usare due figli di ricamo di MC con cosa l'ho ricamata con questo splendido filato che mi sono regalata mi sono fatto un po' di regali in questo periodo sì mi sono regalata questo filato adatto per ricamare su lana eco vita della DMC che ha dei colori che sono spettacolari aspettate che ci metto sei anni ad aprire la scatola ecco qua questo è lana organica al 100% della DMC è un bellissimo filato e questi sono colori che io adesso ho sparpagliato in giro perché quelli che ci sono qui davanti sono quelli che ho utilizzato guardate che meraviglia è stupenda io mi sono iscritta alla newsletter e al sito DMC era il mio primo acquisto e ho ricevuto uno sconto se non ricordo del 10 o del 15% ho fatto i calcoli di quanto costava una matassina chiaramente era molto conveniente e mi sono comprata l'intera scatola quindi qua ricamerò a go go per i prossimi anni ma va bene così queste cose mi piacciono non sono cose che si buttano vediamo quanti colori sono in questa scatola 30 matassine da 16 metri ciascuno mi piace tantissimo è un filato molto morbido però in confronto al filato che era il lanato prima della DMC che c'è ancora è un filato davvero molto molto sottile quindi su un capo del genere io da esperta ricamatrice quale sono che non è vero avrei dovuto capire che dovevo utilizzare due fili ma poco importa è stata la prima prova non è venuto comunque un brutto ricamo cioè almeno a me piace lo faccio vedere un po' più da vicino e mi migliorerò facendo comunque delle altre prove e degli altri progetti e bene e questo è il secondo ed unico lavoro finito dopo la coperta poi sono rimasta ferma con lo scialle di Valentina Cosciani quello rosa che ho fatto con il filato Ellen di Lollocrea perché sono andata avanti con altre cose ho continuato abbastanza invece con il ruscello incantato che mi sta piacendo davvero molto sono arrivata alla divisione delle maniche vedete qua ho appena fatto la divisione della manica veste molto bene me lo sono provato davvero veste molto bene segue molto bene la spalla il metodo contiguos non l'avevo mai provato quindi mi sono divertita perché ho imparato un metodo nuovo e mi piace molto il modello non arzigogolato semplice ma interessante comunque nella costruzione adesso si andrà avanti tutta maglia rasata tranne per il laterale qua guardate come le cuncia è il me modello cioè sono tutto pieno guardate di pastrocchi di scritte cioè io li concio così i modelli perché mi faccio tutti gli appunti e niente ci sarà poi questa fascia spero di farvelo vedere qui questa fascia laterale che è ancora appunto legaccio sicuramente il mio sarà più lungo per comprire la mia pancetta anche se lei lì ragazzi si è messa a dieta in maniera seria sono andata da una nutrizionista da due settimane ormai ho iniziato questa è la sì è fine della terza diciamo quando mia mamma è uscita dal cardiologo che il cardiologo ci ha detto che stava bene che andava tutto bene che era in forte ripresa esco dallo studio medico e c'è lì nutrizionista e il nome della nutrizionista e mi sono detta questo è un segno è un segno che adesso devo ricominciare a prendermi cura di me stessa e quindi niente sono andato ho preso appuntamento sono andata dalla nutrizionista mi sembra di mangiare un botto ma veramente un botto ho una dieta da 1400 calorie adatta ad una donna in menopausa come sono io lei mi ha detto di non pesarmi una volta alla settimana io l'ho ascoltato il suo consiglio faccio finta di non essere a dieta ma mamma mia che capelli faccio finta di non essere a dieta ma vi dirò che all'inizio di questa settimana avevo già perso due chili non sto facendo fatica non mi viene fame probabilmente la testa aiuta tanto se non è diciamo il motore principale ovviamente quando si fanno questi tipi di percorsi l'unica cosa che non sono riuscita a fare è stato andare a fare qualche passeggiata che a me piace camminare ma perché fino all'inizio di questa settimana il tempo è stato veramente bruttissimo io se piove non esco perché poi prendo freddo mi fa male la testa mi fa male il collo sono già pigra di mio se devo uscire con la pioggia anche no e quindi e quindi tutto questo per dirvi che mi sono messa a dieta ebbene ecco spero che aiuto un pro del naso spero che la prossima volta che farò un video questo maglione sarà finito e anche se non lo metterò quest'anno fa niente lo metterò l'anno prossimo non importa per lo scialle quindi ho aspettato un attimo perché magari avrò anche tempo di metterlo più avanti in primavera o anche d'estate quando le serate magari si fanno un po' più freschine alla fine dell'estate quindi avrò tempo di continuare ma comunque non è che posso far tutto poi non mi ricordo e anche perché mi rendo conto che se lascio un progetto fermo poi dopo non mi ricordo dove sono arrivata devo andare a ricostruire è vero che io mi segno tutto però magari capita che poi la borsa va avanti va indietro perdo i punti e quindi a questo punto ho deciso di avere uno due uno non riesco non riesco ad avere un solo progetto di maglia iniziato devo averne almeno due per cambiare e un progetto di all'uncinetto da fare sto continuando con le mie casette se avete visto ho postato la fotografia sui social delle casette che sto continuando a fare per il gruppo missionario e nulla niente quindi io questo lo sto continuando mi sta piacendo davvero molto un modello secondo me molto ben fatto una costruzione per me nuova e che mi è piaciuta tantissimo e continuiamo questo lo sto facendo con la lana carisma della drops che avevo nel mio stash con il numero 52 che non so neanche più se la lana carisma c'è io questo l'avevo comprato parecchi anni fa parecchi anni fa e nonostante abbia tantissima lana nello stash ne sto comprando ancora ma poi vi farò vedere è questo bel giallo senape che mi piace tantissimo uocra chiamatelo come volete voi è uno dei miei colori preferiti sta bene anche con la maglietta che indosso e non è morbidissimissimo o meglio è morbido ma pezzica leggermente leggermente non so se poi lavando non mi ricordo avevo fatto il campione l'avevo anche lavato ma non mi ricordo se pizzicava oppure no non è una cosa che a me dà fastidio perché ho la pelle rubida però ecco se qualcuno invece è abbastanza delicato e non gli piace la lana che pizzica questa non è proprio l'ideale ma presumo che non ci sia forse neanche più la carisma e nulla quindi finiremo finiremo anche questo bel maglioncino ok e il secondo progetto cioè il terzo progetto ve l'ho fatto vedere ora cosa voglio iniziare cosa voglio iniziare sicuramente inizierò la che era che era questa copertina pattern gratuito di espace tricot con la lana che avevo fatto vedere l'altra volta per il mio quasi nipotino che nasce a maggio sta andando tutto bene resiste sta nella sua pancettona e adesso però devo iniziare altrimenti non la finisco non la finisco più ho un pelo della lana sulla bocca non la finisco più quindi questo sarà il prossimo progetto che inizierò e poi inizierò la coperta per mattia allora ho fatto l'esempio del punto che voglio non sono questi colori che utilizzerò o meglio non sono solo questi ma volevo due colori a contrasto come vedete ancora il giallo senape in questo momento mi sta piacendo un sacco con questo punto sempre preso dal sito di Lucy Attic 24 la coperta che vorrei fare si chiama Dahlia Blanket dove lei in questa coperta ha praticamente usato i colori delle daglie in primavera è una roba meravigliosa io non ho quei colori non ho intenzione di comprare il pacco della coperta perché perché anche no ma ho intenzione di finire tutti gli acrilici di questa serie che avevo comprato che sono acrilici scelti da lei non so se ha proprio creato lei questa questa linea di filati comunque sono gli unici che lei utilizza per le sue coperte per i suoi lavori ecco questo è il punto anche questo davvero molto molto semplice perché io ho bisogno di avere un lavoro all'uncinetto io non sono brava a lavorare all'uncinetto è vero che è tutto punto alto punto basso catenella ma preferisco lavorare la maglia ma questa tipologia di lavori mi piace davvero tanto perché davanti alla televisione o ascoltando i podcast qui vado sul sicuro mi accorgo se sbaglio è l'uncinetto chiaramente molto più semplice da disfare piuttosto che la maglia e quindi ho deciso di provare questo punto mi è piaciuto molto l'effetto che dà un po' cicciosino utilizzando ovviamente due colori sempre a contrasto o anche magari della stessa tipologia cioè magari sul verde ma il verde chiaro il verde scuro è un verde più chiaro dopo in modo che ci sia proprio il contrasto nel disegno perché questo è il suo bello anche qui punto semplicissimo sono tre punti su una riga sono tre punti alti si salta una catenella tre punti alti nella riga successiva si fanno tre punti alti e dove si è saltato la catenella si scende nel punto sotto con un punto alto quindi è veramente basica ma l'effetto mi piace davvero tantissimo vi metto ovviamente nel link informazioni nell'info box anche il link a questa coperta e vedrete che colori spettacolari io ho intenzione di finire questi miei tre sacchettoni che hanno dei colori stupendi il filato che lei consiglia è questo style craft special interamente in acrilico e va bene per le coperte perché le metto in lavatrice quindi c'è questo marrone c'è questo bellissimo color ottaneo c'è questo verde va bene ne ho tre sacchettoni pieni ragazzi tre sacchettoni pieni con vari colori e quindi qui ci andranno dentro tutte vedete qua questi sono tutti i colori uno poi abbiamo questo che ha dentro altri colori viola lilla qua c'è dentro un gomitolo che non c'entra niente perché c'è passato dentro questo azzurro davvero meraviglioso guardate che belli per esempio in contrasto questi tre colori per mattia cioè già me la immagino sul letto uno uno due allora riesco farveli vedere tutti ecco guardate che belli con i verdi questi azzurri con i verdi non vedo l'ora di iniziare devo disegnare i colori e poi provare insomma va bene e questo è il progetto che inizierò anche qui poi perché non avevo niente da fare girovagando su Raverly ho trovato avevo voglia di farmi un cappellino estivo molto molto semplice e ho trovato questo pattern di 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 Isabella Crocket un modello di Edelweiss Knit and Crocket Maratea Hat è un pattern gratuito scritto in italiano e la cosa bella che mi è piaciuta è che potete creare qualsiasi dimensione di cappello basandovi sulla vostra circonferenza dove ci sono tutte le istruzioni scritte nel pattern io poi ve lo lascio nell'info box mi è piaciuto molto è un pattern molto semplice molto carino ho un sacco di cordini che possono essere utilizzati per fare questa tipologia di lavoro quindi anche questo sarà un lavoro che per la prossima estate vorrei vorrei iniziare e vorrei finire molto 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 carino ed ora veniamo un po' invece agli acquisti allora io non devo più vedere i video dell'elollo crea sono una tentazione io ho tantissimi filati loro davvero tantissimi ne utilizzo una centesima parte di quelli che ho ma in generale di tutte le cose che ci sono in questa camera hobby ma mi sono fatta tentare loro durante la settimana una o più volte a settimana fanno il video delle occasioni e io ci sono cascata sono dei filati veramente bellissimi adesso vi faccio vedere questo lo lasciamo lì questo lo lasciamo lì e e niente e quindi allora 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 dispiace quasi aprire il sacchetto perché va via tutto il profumo che loro mettono quando profumano e disinfettano il filato mi sono fatta tentare da questa occasione allora questo era un filato delle loro occasioni ivy è il filato e io l'ho comprato in color jeans guardate che meraviglia guardate che meraviglia è spettacolare ed è un 100% cotone ma non pare neanche quanto è bello è morbido 100% cotone 100 grammi sono 300 metri ferri 3,5 4 e io ci vorrei fare una magliettina per l'estate con questo colore jeans meraviglioso belli e ne ho comprati tre per me e tre per fare un regalo eccoli qua tutti belli accartocciati poi 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 ho preso sempre dello stesso filato mi prude il naso c'era un proverbio che diceva non me lo ricordo più insomma che c'era qualche novità in arrivo sempre dello stesso filato questo colore borgogna merlot merlot scusate non borgogna mi pare merlot merlot lo chiamavano loro guardate che meraviglia che lucentezza che ha è spettacolare bellissimo veramente bellissimo e potevo lasciarlo lì come dice la mia amica Elisabetta R color anice vabbè vabbè che ve lo dico a fare belli 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 in omaggio con questo ordine mi hanno regalato sono sempre molto 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 gentili dell'olocrea una matassa di colors in questo colore molto autunnale molto bello con queste sfumature e mi piacerebbe farmi qualche cosa magari uno scaldacollo all'uncinetto vabbè ci studierò sopra questo filato colors sono 64% di lana 26% poliammide 10% viscosa 100 grammi 375 metri uncinetto 4-4,5 ferri 3,5-4 anche qua ci uscirà sicuramente qualcosa di bello ma guardate che colore sono proprio così è come nella telecamera bellissimo e ok questi li rimettiamo via ma non contenta non contenta ok è vero ho comprato dei filati e non dovevo comprarli lo so colpa mia colpa mia colpa mia ho peccato che ve lo dico a fare però i prezzi sono davvero molto molto appetibili e convenienti per dei filati che io ho sempre reputato di qualità questo invece era l'ordine precedente perché la mia amica Simo e questo ordine è colpa sua Simo di pensieri e pasticci vi lascio poi il link se non la conoscete ancora nell'info box lei è bravissima in cucina abbiamo tante passioni in comune siamo amiche da tantissimi anni e abbiamo la passione anche dei filati lei per l'uncinetto e io generalmente per la maglia ma mi piace anche l'uncinetto come avete visto quella sera lì mi scrive e mi dice vai a vedere il video delle lollo che meraviglia e io gli ho detto non ti permettere più di dirmi una roba del genere perché lo sai che poi quando guardo il video e nel frattempo che a lei scrivevo no 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 non posso no Simo no non posso non posso avevo già messo le cose nel carrello pensate voi va bene va bene ho già in mente anche due modelli ma non ve li faccio vedere perché mi sono dimenticata di stamparli e perché oltretutto non mi ricordo più come si chiamano allora questo è il filato F4 che era un'occasione guardate voi che meraviglia ed è 33% merino 33% tensel che mi pare sia una fibra naturale però non voglio essere cioè non vorrei impuntarmi ma mi pare di aver letto così comunque eventualmente andate a cercare cos'è tensel scritto tensel e 34% poliammide 100 grammi 230 metri e io qua ho intenzione di farmi un cardigan senza bottone aperto della Isabel Kramer che non mi ricordo però più come si chiama ferri 4,5 5 quindi sicuramente con 6 gomitoli poi diventerò magra quindi userò una taglia S e siamo a posto così con 6 gomitoli ma guardate che colore guardate che colore che colore che colore che meraviglia bellissimo questo mi pare fosse il color cammello però non mi ricordo più vediamo qua l'ho scritto c'è lo scritto c'è dentro l'ordine vediamo se si color cammello color cammello bellissimo e non con tinta ho preso lo stesso filato perché aveva veramente un prezzo troppo bello lo stesso filato l'ho comprato nel color blu perché qua ci vorrei fare una giacchina color vediamo che colore era questo cosa c'è scritto qua no blue marine la tipologia del filato è sempre lo stesso guardate che lucentezza guardate che meraviglia eccoci qua belli eh e come sempre come omaggio mi hanno regalato un gomitolo di T17 un bel gomitolone di un color marrone caffè molto bello molto molto bello e ho visto uno scaldacollo che mi piaceva devo capire se il metraggio basta è 70% l'anamerino quindi molto caldo 30% pc che mi pare sia una fibra acrilica policarbonato anche qua mi pare di se non ricordo male policarbonato una fibra acrilica proprio per dargli un po' anche di elasticità quindi molto bello 100 grammi 350 metri ferri 5,5 e mezzo quindi qua vi è in giù che è una meraviglia uncinetto 4,5 5 ecco e anche questo guardate che bel colore che bel colore marrone si vede ed eccoci qua ho già finito eh sì ho già finito perché vabbè di cose finite ne avevo veramente poche quella che poi è rimasta in sospeso è rimasta così come era il lo chalet rose di valentina cosciani quindi era inutile farvelo vedere che è rimasto nello stesso punto di prima vi ho fatto vedere i miei acquisti vi ho fatto vedere le lane della dmc vi ho fatto vedere i progetti che vorrei iniziare prossimamente la primavera l'arrivo della primavera mi fa sempre essere ancora più esuberante ed allegra energica energica adesso che ho iniziato a fare la dieta vi dirò che effettivamente la sera sono molto meno stanca sono molto molto meno stanca dovrei smettere di fumare e questo mi costerà mi costerà tantissimo sacrificio ma devo devo provarci quantomeno a diminuire perché lo so che è una cosa che non fa bene che mi faccio solo del male ma ma a questo controllo non sono ancora arrivata va bene amici ed amiche care io vi ringrazio per essere arrivati fin qui se siete arrivati fin qui vi saluto vi abbraccio adesso vado a mettere in lavatrice la coperta di pietro perché per domenica appunto la devo consegnare spero di avervi così come sempre dato qualche idea stimolato la creatività e buono sferruzzo e buon uncinetto a tutti a presto ciao